Musica Ciao ragazzi qui è Sawyer e bentornati nel canale ragazzi Oggi siamo in battaglia in PIP con il nostro carissimo Lusiel La prima battaglia contro Ayn ragazzi Maledizione avevo fatto Eglis e lui è continuato Cazzarola Beccati sto trigger Oh che roba Che roba ragazzi Allora dobbiamo stare molto attenti Comunque ancora ad Ayn non so bene come contrastarlo ragazzi Non ho capito bene come contrastarlo ancora Cos'è sta roba Ma cos'è sta roba Ayn Non fare le tue diavolerie per cortesia Incatenamento e facciamo l'Eglis Preso Sì va bene ci siamo liberati L'importante è liberarsi e tentare di agganciare Ma è così Preso Nooo Per pochissimo Per pochissimo Allora facciamo il malvagio sigillo dell'anima Così lo distraiamo un attimo E ce l'abbiamo fatta ragazzi Iniziamo a combare così Vai così Tra l'altro ragazzi ho messo l'Eglis da Serafino Sul CL Che ci sento una meraviglia Troppo troppo bello Voglio provare sta skill ragazzi Uuuu Io già Che ci è rimasto malissimo GG ragazzi Eh sì perché la sto utilizzando in dungeon Però mi è rimasta messa in pvp Però non è male ragazzi Ok ragazzi Prossima battaglia contro un blade master Elite master ragazzi Ragazzi vedete Questo non si è saltato in alto quel bm Cazzarola Preso Vai così Ragazzi se ci fate caso Vedrete tipo le nuvole E le pozioni che volano Perché grazie al set Questo del Vargo Riesca a fare appunto più danni raga Oh rilassati Perché fai così Non facciamo così Sì perché ti faccio una bella lancia spettrale Via via ragazzi Ok furto dell'anima E ragazzi Continuiamo a sparare Non ho raccolto salto Però ragazzi Potta e sega Noi brecchiamo così Perché come è giusto che sia Cerchiamo di far così 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 E così Lo stiamo facendo confondere E così E furto dell'anima Non ce l'ho fatta nemmeno Va bene ragazzi GG Ok ragazzi Prossima battaglia contro un RF Vai ragazzi Super bro fist Ragazzi questo qua lo conosco È forte È forte È un RF Veramente abile Ragazzi Quindi che vinca è il migliore Oh Prendi questo Attenzione Vai così Preso? No Attenzione Ma che cazzo sto facendo? Occhio Oh Di cattiveria Complimenti Mi ha preso di cattiveria Ragazzi Cazzarola Ste piattaforme Eh no La pietra Va bene Grazie Willard Ogni tanto Willard Fa la sua parte Preso Ti ho fregato di brutto Vai così Hai sbagliato RF Vai così ragazzi Vai così Sono concentratissimo Ragazzi Mettiamo questa qua Sarà bella Lui è forte Lui è forte Abbiamo l'hashcaton Lo facciamo Sprecato No L'ho preso un po' No La bombazza Ho paura che faccia la bombazza No 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 Ho perso Del mana prezioso Ragazzi Ho perso proprio del mana prezioso Facciamo un po' Del malvagio sigillo dell'anima A meno così Penso che lo distraiamo un attimo E facciamo le Chris E lo prendiamo Lui sfugge Non so come abbia fatto No Non dovevo usarlo ora Non dovevo usarlo ora ragazzi Non dovevo usarlo ora Allora Attenzione Cazzo Eh vabbè Raven è cattivissimo Raven ragazzi È cattivissimo Cazzo Vai Aspetta ragazzi È una bella battaglia Che ve ne pare Che ve ne pare ragazzi Oh Quella Però Mi viene meglio Ad agganciarlo con Col CL qua Vai ora Sì No Ho breccato Dovevo aspettarmelo Vai Sì 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 così Sì così Cazzarola Se riesco a fargli Pioggia del caos Fatta Vai Pioggia del caos Intenta Abbiamo il distintivo Noi lo prendiamo Con il salto Facciamo così Facciamo il trigger Lui ha brecchiato Non riuscirà a contrastarmi Perché è ancora di distintivo Ragazzi Lo incateniamo Eh ragazzi GG Per noi Mamma mia che scontro Comunque complimenti Complimenti a Super Bro Eh Ok ragazzi Prossima battaglia Contro un noblesse Ragazzi Questa qua sarà Uno scontro Entusiasmante Che vinco il migliore Allora Ah no Scusate ragazzi Non è il noblesse È il diablo È il diablo Ragazzi Scusate E che le foto Sono quasi identiche A volte Eh Questa qua ragazzi Sarà una battaglia Molto tosta Che lui Farà le combo Combinazione E intanto Noi lo agganciamo Ragazzi Dove vai Dove vai Dove vai Incaperamento No Ci sono cascato in pieno Ragazzi Ci sono cascato in pieno Dov'è No Il giardinazzo Ragazzi Il giardinazzo No Si parte Eh Sì Cerchiamo di agganciarlo qua Ragazzi Ah Lo so Per prendere E voi ragazzi Qual è la vostra classe Di luciel Preferita Scrivetelo qui sotto Nei commenti Ragazzi La mia Ovviamente È il noblesse Ragazzi Ho anch'io Un diablo Ragazzi Poi ci farò anche Le pvp Sicuramente Cazzarola Mi ha preso In combo Però Però ragazzi Queste Eh Appensandoci Ragazzi Il giardino Gioco un po' A mio favore Perché Mi posso ricaricare Un po' di mana Però ragazzi Troppo confuso Troppo confuso Cazzarola Che Macello Attenzione Vai col salto Sì No ragazzi Queste battaglie Sono veramente Epiche Cioè Dovete lasciare Forse un bel like Ragazzi Eh E cazzo Io ho potuto Prendere il distintivo Cazzarola Ah Andiamo il sielva Oh my god Che bella Quella skill Non me la ricordavo Mi ha preso Lontanissimo Allora Facciamo così Ok Allisciato Noi facciamo Lancia Spettrale Ricarichiamo E Pioggia Del caos Vai così GG Per noi Ragazzi Una skill Davvero Devastante Ok ragazzi Ultima battaglia Siamo contro Il noblesse Contro un altro noblesse Ragazzi Mamma mia Sono state le battaglie Fantastiche Ragazzi Allora Che vinca il migliore Mi sembra un po' più bravo Di me ragazzi Come si muove Sembra bravo Questo eh Poi Cazzo Lo sapevo ragazzi Lo sapevo Non è detto che non possiamo Contrastarlo Però eh Ragazzi Basta che siamo attenti Aspettiamo il momento Giusto per attaccarlo Di paura ragazzi Si è buttato giù Si è buttato giù Maledetto Attenzione Preso Ho sbagliato ragazzi Lui è pronto ad usare Il furto dell'anima E io Io lo uso ragazzi L'ho fatto benissimo Facciamo un bel trigger Così Facciamolo breakare No non break E là ti faccio la lancia Aspettrale Mi dispiace Continuiamo a combarlo Ragazzi Eh ho sbagliato Ragazzi Non dovevo fare il salto Non dovevo assolutamente Farlo ragazzi Però Pare che gli tolga poco Oh My god Eh adesso tutti Con sapeggia del caos È una skill fortissima Ragazzi Tanta roba Ci sono andato proprio in bocca Qua Sotto pure l'ombra Eh ragazzi Che sta qua Mi sa che la perdiamo Eh ragazzi GG per lui Ragazzi Bene ragazzi Siamo arrivati alla conclusione Spero che questo video Vi sia piaciuto ragazzi Sono state delle battaglie Veramente epiche Quindi ragazzi Lasciatemi il vostro supporto Con un bel like Andre vi saluta Al prossimo video ragazzi Ciao Ciao